cari amici buongiorno e volevo leggere dal Vangelo di Giovanni al capitolo 10 un versetto sono le parole di Gesù che dice il ladro non viene se non per rubare ammazzare e distrugge io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza molti hanno un concetto negativo della vita cristiana pensando che essere discepoli di Gesù significhi rinunciare alle cose piacevoli al lato avventuroso dell'esistenza umana se è vero che nei secoli gli uomini hanno fatto di tutto per rendere il cristianesimo una religione pesante e noiosa non è questo però quello che dice il Vangelo uno dei motivi per cui Gesù è venuto infatti è quello di dare un senso alla nostra vita a renderla abbondante gioiosa avventurosa piena e esuberante c'è una canzone del 1983 che mi è sempre colpito per il messaggio che vuole trasmettere è stata l'inno alla ribellione di tutta una generazione di giovani italiani e molti di voi sicuramente la conoscono vita spericolata una strofa in particolare di questa canzone recita voglio una vita spericolata voglio una vita come quelle dei film voglio una vita esagerata voglio una vita come steve mcqueen l'aggettivo esagerata calza perfettamente alla vita di un attore icona della ribellione degli anni 60 steve mcqueen steve era figlio di uno stuntman ed ebbe un'infanzia molto difficile e già a 14 anni era talmente indisciplinato che lo spedirono in un collegio poi per tre anni si arrolò nei marines e infine realizzò il sogno della sua vita e sbarcò a hollywood steve era un esagerato in tutto negli eccessi di ogni tipo nella passione per le moto per le macchine da corsa e per la velocità amava girare le scene più pericolose senza controfigura era però esagerato anche nelle sue dichiarazioni e un giorno gli domandarono se credesse in dio e lui rispose così io credo in me stesso dio sarà il numero uno finché io sarò il numero uno io sono il mio dio e negli anni 70 steve mcqueen era l'attore più pagato di tutti ma a causa della sua vita esagerata steve divenne schiavo di molti vizi distrusse i suoi matrimoni e alla fine iniziò a declinare anche come attore e così si ritirò a vivere in un hangar di un piccolo aeroporto circondato da tutte le sue moto e dalle sue macchine da corsa si comprò anche un biplano giallo perché desiderava imparare a volare sammy mason era l'istruttore pilota che insegnò a volare a steve sammy con la sua tranquillità e la pace che trasmetteva lo affascinava e durante i voli tra le nuole i due iniziarono a parlare del vero senso della vita e quando steve mcqueen chiese a sammy che cosa dava senso alla sua vita la risposta fu la mia relazione personale con gesù cristo sammy era un credente sincero e la sua testimonianza conquistò letteralmente steve che tra l'incredulità di chi lo conosciva iniziò a frequentare la chiesa e accettò gesù cristo come il suo salvatore la sua vita fu trasformata e una pace meravigliosa in base il suo cuore triste ed agitato nel 1979 steve mcqueen si ammalò gravemente gli viene diagnosticato un tumore dovuto principalmente all'esposizione all'amianto forse quello stesso amianto contenuto nelle tute da pilota che lui tanto indossava prima di morire confidò al suo pastore che il suo rammarico più grande era quello di non aver avuto il tempo di raccontare a tutti come cristo lo aveva salvato cari amici ancora oggi la promessa del signore è valida lui non ti darà mai una vita esagerata non ti darà nemmeno una vita spericolata ma ti darà una vita di gran lunga migliore una vita abbondante e una vita esuberante in rete ho trovato il biplano giallo di steve mcqueen e con le sue immagini ti auguro una buona giornata e che dio ti benedica grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti